Ed ecco la torre Bovettal, suono stridulo della campanella di vetta, sono grandi soddisfazioni, si poteva fare meglio Piccoli Dolomiti, prima esperienza, beh dai carino, 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 poi qua abbiamo avuto anche tutto il giorno il sole Cosa che adesso è sparito, ma fino adesso giuro che c'era, e poi di qua c'è tutto quest'altro gruppo qua Domani magari vediamo se andare a visitarlo, non sappiamo ancora cosa faremo, evviva, ciao